Buongiorno, siete collegati a Tele Nazigheia adesso. Ecco qui il carico totale. Marco sta manovrando per agganciare alla macchina. Qui Marco in meno di 20 minuti ha tirato giù. Quanto scocco Marco dice? 193 cocchi in 20 minuti al massimo. Adesso attaccano la macchina e via, si portano via e vanno a far su la farina, gratano giù il cocco, li aprono. È un'impresa vecchia di 50 anni, ha cominciato suo papà e va avanti lui e il fratello e qui anche il figlio. Se venite in ferie altro che piscina, vi metto tutti a raccogliere i cocchi. Produzione cocchi aziendale.